Celebrando la solennità dell'Immacolata Concezione, mi vengono in mente tre momenti importantissimi che mi spingono a consolidare la mia fede nel Signore. Il primo momento proprio è la solennità, la festa che stiamo celebrando, l'Immacolata Concezione. Dio che ha preservato la sua figlia dalla macchia del peccato, da ogni traccia del peccato, anche dal peccato originale. Il peccato originale non è quel peccato di Adamo ed Eva che cade su di noi, non è la conseguenza del loro peccato che cade su di noi, ma il peccato originale è proprio queste inclinazioni del male che stanno in noi, le veleità del male che ci spingono a disobbedire alla parola di Dio, che ci spingono a rilegare Dio, ad andare fuori la volontà di Dio. Quindi queste veleità sono proprio il peccato originale. Col battesimo diventiamo figli di Dio, membri del corpo di Gesù. E quindi il battesimo ti aiuta a superare il peccato originale, a cancellare quel peccato originale, ricordandoci che siamo figli di Dio, che dobbiamo seguire le orme di Gesù, che dobbiamo fare e compiere la volontà di Dio. E quindi l'Immacolata Concezione è questa grazia che Maria ha ricevuto da Dio, la grazia che l'ha preservata dalla macchia del peccato, da ogni traccia del peccato, anche dal peccato originale. Perché Maria è questo tabernacolo vivente che accoglie la parola di Dio e lei partorisce Dio, diventa madre di Dio. E' una grazia importantissima, come lo dice proprio l'angelo quando viene a salutare Maria, piena di grazia. Piena di grazia significa in lei non c'è nessun spazio di peccato, non c'è una traccia del peccato. Perché Dio non poteva nascere in un luogo già macchiato dal peccato. Dio non poteva nascere in una persona, in un grembo macchiato dal peccato. E quindi Dio ha preservato Maria da quella traccia del peccato sin dall'inizio, già dalla sua nascita. Quindi lei è concepita senza peccato. Il secondo momento è proprio questa festa che tocca pure a noi. Non è solo per Maria che celebriamo Immacolata Concezione, ma è una festa che tocca pure a noi, che ti spinge a tornare alla volontà di Dio che ci ha fatti e creati e ha voluto ognuno di noi santo e immacolato. Come lo dice proprio San Paolo. Il terzo momento che mi piace proprio celebrando questa festa è il messaggio di Maria a Pierina Gilli, a Montichiari, nella diocese di Brescia, qui in Italia. Quando Maria diede un messaggio di grazia a Pierina Gilli, raccomandando a tutti di pregare l'ora di grazia dell'8 dicembre dalle 12 alle 13. Il primo momento, l'Immacolata Concezione, trova proprio radici nell'8 dicembre del 1854, quando ne è stato proclamato il dogma da Papa Pio Nonno con la Costituzione Apostolica Ine Fabilis Deus, l'Immacolata Concezione non si riferisce però al concepimento di Gesù, ma a quello di Maria concepita senza peccato originale e preservata da ogni macchia nel grembo di Sant'Ana, sua madre. Il peccato originale non è da confondere, come l'ho detto, con il peccato di Adamo ed Eva. Non si tratta delle conseguenze del loro peccato che cadono su di noi, ma delle inclinazioni verso il male, delle veleità alla disobbedienza che si nascondono in ognuno di noi e tirate fuori con il peccato. Dio non poteva incarnarsi in un luogo già macchiato. Dio ha preservato Maria dal peccato originale, da ogni macchia del peccato, sin dall'inizio, già alla sua concezione. Maria è stata preservata dal peccato originale. Ricordiamoci che a Lourdes la Madonna apparve alla piccola Bernadette Subiru nel 1858, quattro anni dopo la proclamazione del dogma, confermando che io sono l'Immacolata Concezione. Ma un anno prima, nel 1857, in piazza di Spagna a Roma fu inaugurato il Monumento dell'Immacolata. E quindi la festa dell'Immacolata Concezione ci ricorda proprio questa grazia che Maria ha ricevuto da Dio per essere il tabernacolo vivente, ma preservato da tutti i peccati. E quindi Dio ha voluto nascere in un luogo puro e Maria ne ha ricevuto la grazia. Ma questa festa non tocca solo a Maria, questa festa tocca pure a noi, ad ognuno di noi, perché Dio ci ha creati sin dall'inizio e ha destinato ognuno di noi alla santità, alla purezza originale. E San Paolo lo esprime meravigliosamente con le parole splendide. In Cristo il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà all'ode dello splendore, della sua grazia, di cui ci ha giustificati, di cui ci ha gratificati nel figlio amato. Questo figlio amatissimo Gesù Cristo si è incarnato in Maria, diventata tabernacolo vivo del Verbo di Dio. Colma di grazia, lei è la dimora preparata sin dall'inizio per accogliere Dio con noi. In lei siamo diventati figli adottivi di Dio perché nuova Eva, appunto, che dalla croce Gesù fece di Maria nostra madre, di cui celebriamo oggi l'Immacolata Concezione quando Gesù disse a Giovanni ecco tua madre, madre ecco tuo figlio. Da quel momento lì Giovanni accolse Maria a casa sua, andarono ad abitare ad Efeso, l'attuale Turchia, dove loro stavano insieme, sempre insieme, e Giovanni non ha mai lasciato Maria. Così noi diventando figli di Maria, tramite questa adottione sotto la croce di Gesù, noi possiamo anche ricevere dalla madre questa grazia dell'Immacolatezza, questa grazia della purezza, questa grazia della santità. Allora carissimi, oggi, celebrando questa festa dell'Immacolata Concezione, ricordiamoci che noi siamo chiamati alla santità, siamo chiamati a vivere l'amore pieno e responsabile nell'etica di responsabilità le uni per gli altri. È proprio quella questione dell'etica di responsabilità che si pone nella prima lettura di oggi, nella lettura della Genesi. Nei testi fondatori della Genesi non si tratta della storicità dell'essere umano, ma di un messaggio forte che tocca le profondità abissali della nostra vita. La narrazione odierna ci fa conoscere che l'uomo non è più ciò che era all'origine. Abbiamo perso la nudità originale, cioè l'innoscenza della fede, l'immacolatezza della carità, la fiducia filiale. E l'uomo nella Genesi, dopo aver commesso quel peccato, si nasconde. E Dio va sempre a cercarlo. Dove sei? Ma dove ti nascondi? E l'uomo non si vuole far vedere perché si vergogna di se stesso. La donna pure si vergogna. Allora Dio chiede, ma cosa avete fatto? Perché avete mangiato il frutto vietato? Perché avete fatto questo peccato? Si rivolge all'uomo. Adamo, perché l'hai fatto? Adamo si rivolge alla donna. La donna a me affidata mi ha fatto scivolare nel peccato. E Dio si rivolge alla donna. Ma perché hai fatto così? La donna si rivolge al serpente. È il serpente che mi ha ingannato. Ciò succede pure nella nostra vita. Rifutiamo di prenderci la responsabilità di ciò che accade. Vogliamo buttare tutto sugli altri. Vogliamo dare la colpa agli altri. L'inferno sempre agli altri. Come lo dice Jean-Paul Sartre nel suo libro A porte chiuse. L'inferno sempre agli altri. Le conseguenze del male che viviamo le buttiamo sempre su di Dio. La colpa è sua. Perché è lui che ti lascia morire così che ti lascia vivere il male. Quindi l'uomo rifiuta le proprie responsabilità di fronte al male che si fa di fronte alle guerre alle malattie alla povertà al sistema in cui siamo ingannati l'uomo non si prende le responsabilità appunto che la realtà del mondo non cambia. Perché l'uomo non vuole cambiare? Come possiamo cambiare la faccia del mondo? Possiamo cambiare il mondo solo se noi cambiamo. Se solo noi assumiamo le nostre responsabilità. Perché una persona che non accetta mai non riconosce mai le proprie debolezze i propri errori i propri sbali non può mai cambiare. Non serve a niente discutere con persone così che non riconoscono mai i propri errori i propri sbali. La vera conseguenza del peccato si rivela proprio nel rifiuto di riconoscere la propria responsabilità la propria colpa. Nella società come nella Chiesa c'è gente proprio così che non riconosce i propri sbali i propri peccati. La colpa è sempre degli altri. Allora il terzo momento è proprio il messaggio che Maria aveva dato a Pierina Gilli nel 1947 dell'8 dicembre. Maria diede questo messaggio a Pierina Gilli. Oggi chiedete tutte le grazie alla Vergine Maria durante quest'ora di grazia dalle 12 alle 13 ognuno da dove si trova secondo la fascia oraria del suo tempo del suo paese dove abita. Però in questo giorno dell'8 dicembre in quest'arco del tempo dal 12 all'1 possiamo chiedere qualunque grazia Maria ci concederà nella sua intercettione. La Vergine Maria apparve per la settima volta Pierina Gilli a Montichiari nella diocese di Breccia. Attualmente Montichiari è riconosciuto come luogo di pellegrinaggio e luogo di preghiera. Ecco il messaggio dell'8 dicembre 1947. Qui a Montichiari dice desidero essere chiamata Rosa Mistica desidero che ogni anno il giorno 8 dicembre abbia luogo a mezzogiorno l'ora di grazia universale con la quale si otterranno numerose grazie spirituali e corporali. Il mio Divino Figlio Gesù concederà grande misericordia purché i buoni continuino sempre a pregare per i loro fratelli peccatori. Fate subito sapere al Sommo Padre della Chiesa Cattolica il Papa Pio XII il mio desiderio che quest'ora di grazia venga diffusa e praticata in tutto il mondo. Coloro che non potranno recarsi nelle rispettive chiese otterranno da me la grazia pregando anche nelle loro case in famiglia con gli amici oppure da solo. A chi pregherà e verserà lacrime di pentimento in questa Chiesa gli sarà indicata una via sicura per ottenere dal mio cuore grazia e protezione dice Maria a Pierina Gilli ogni 8 dicembre solennità dell'immacolata concezione della Beata Vergine Maria il cielo ti fa degli incredibili doni di misericordia e di grazia a quest'ora di grazia che Dio vi benedica pregate per me come io prego per voi prendete una candela accendetela in chiesa o a casa da solo con gli amici fate la vostra preghiera la fiamma di questa candela continuerà a bruciare il cuore di Dio e il cielo di questa candela che si scioglie sarà la tua intenzione che si scioglie sotto gli occhi di Dio sotto la protezione del Signore che ti concederà grazia su grazia pregate per me come io prego per voi che Dio vi benedica carissimi Don Staffen Janil Nkodia servo inutile